Riformismo, rivoluzionalismo, centrismo. Di questa terminologia anche gli echi sono spenti, mentre nel grande fiume del fascismo troverete i filoni che si divartirono dal Sorel, dalla Gardel del Movimento Socialista, dal Peggy e dalla coorte dei sindacalisti italiani, che tra il 1904 e il 1914 portarono una nota di novità nell'ambiente socialistico italiano. Benito Mussolini, La Dottrina del Fascismo, 1932. Bentornati amici ed amiche di Storia per le Tre Età. Riprendiamo con un nuovo ciclo di video dedicati alla ideologia fascista, atteso che il prossimo 27 ottobre saranno esattamente 100 anni, un secolo, dal 27 ottobre, da quel 27 ottobre 1922, da quando iniziò la cosiddetta Marcia su Roma. Il titolo è appunto Ideologia e che pone subito il fascismo come dottrina politica al pari del liberalismo, del comunismo e del socialismo, cosa che però fino agli anni 70-80, in particolar modo in Italia, non era qualcosa di assolutamente normale, in quanto specialmente gli storici di casa nostra non consideravano il fascismo degno di essere considerato una dottrina politica alla stregua delle altre dottrine politiche storiche che ho citato. Questo perché rilevavano una discrepanza fra l'ideologia fascista e la pratica politica che il fascismo aveva messo in atto nel momento del suo avvento al potere, della sua presa del potere. In contrasto cioè appunto con gli obiettivi che aveva dichiarato in partenza e che erano alla fine stati incongruenti con i risultati conseguiti, ponendo innanzi un atteggiamento pregiudiziale a prioristico sul fascismo come appunto nuova dottrina politica come le altre che lo avevano preceduto. Questo però è un atteggiamento e una metodologia di analisi assolutamente speciosa e incongruente perché se dovessimo applicare i risultati conseguiti a una dottrina politica per poterne confermare la validità non ne potremmo ammettere nessuna perché dato la fallacia dell'essere umano nessuna dottrina, nessuna politica messa in atto in concreto ha mai confermato quello che erano gli obiettivi di partenza. Perciò diciamo un atteggiamento assolutamente fondato su un pregiudizio. Pregiudizio che in particolare in ambito liberal democratico si esternò con il pregiudizio crociano, cioè di Benedetto Croce, che considerò appunto i fascisti fascismo come una sorta di invasione degli Ixos, ricordando l'invasione di questa antica popolazione aveva fatto nell'Egitto dei Faraoni. perché diceva che non avendo il fascismo mai avuto un'altra cultura, Tukur non ebbe assolutamente una cultura politica. E questo è stato un pregiudizio che è durato per tutti gli anni 70, fino agli anni 70-80 del Novecento, quando però a opera più di storici stranieri, i quali Georg Mosse, che ha messo in evidenza il fattore delle masse, la nazionalizzazione delle masse, appunto di come il fascismo avesse saputo manipolare le masse, cioè che è l'elemento di novità della politica del Novecento, e anche come Ernest Nolte, il tedesco Ernest Nolte, che aveva addirittura fatto un parallelismo tra fascismo e bolshevismo, dicendo che il fascismo fosse null'altro che una derivazione del bolshevismo. Questi ovviamente sono alcuni temi che vi anticipo, e che ovviamente sui quali torneremo. Questa storiografia, specialmente italiana, influenzata da questi pregiudizi ideologici, aveva considerato quindi che il fascismo fosse stato soltanto che un altro ennesimo epifenomeno del braccio armato, delle forze reazionarie, del nazionalismo già esistente, e che appunto il fascismo non rappresentasse altro che un nazionalismo ultra radicale, più radicale, diciamo, del nazionalismo normale, che serviva soltanto a fermare l'avanzata delle masse popolari, quindi braccio armato degli agrari e del grande capitale. Quindi solo come una sorta di forza reazionaria che la borghesia usò, la borghesia italiana usò, contro le masse socialiste, o della sinistra in genere. Questo modo di affrontare il fascismo ha fatto sì che anche si considerasse i fascisti nient'altro che una marmaglia ignorante dedita alla violenza, all'inganno, alla demagogia, e che una volta arrivata al potere si ebbe soltanto delle condizioni di nuovi episodi di corruzione, di opportunismo e di carierismo. Sicuramente questi elementi sono presenti all'interno del fascismo. Nel fascismo non fu solo questo, ci furono anche dei caratteri di modernità, perciò si è parlato di modernismo reazionario, e in alcuni casi si è anche tolta la parola reazione nei confronti del fascismo. Sappiamo che l'inventore del fascismo Mussolini parlava di rivoluzione fascista, per cui quindi il dibattito sulla terminologia è ancora aperto. Quello che è certo è comunque che il duce Mussolini inaugurò un nuovo tipo di organizzazione statuale che era fondata sull'organizzazione delle masse su base corporativa, con un culto della personalità dello stesso duce, che prevedeva appunto la mobilitazione delle masse. Un nuovo stato, appunto uno stato nuovo, che superasse l'italietta liberale e che fosse non più uno stato come era nella vecchia ideologia liberale, uno stato inter homines, ma un nuovo stato in interiore omine. Il fascismo fu una creazione italiana, fu appunto organizzato, e il suo leader, Benito Mussolini, ne fu appunto l'organizzatore. Anche se Benito Mussolini seguì sempre gli eventi, ma non si pose mai alla testa degli eventi. Quando invece lo fece, gli esiti furono impausti. Mussolini, come scrisse nella sua autobiografia, scritta già nel 1911 in carcere, quando fu arrestato per aver protestato contro la guerra cosiddetta italo-turca, che sarebbe più preciso dire italo-ottomana, del 1911, quando l'Italia invade la Tripolitania e la Cirenaica. E qui in carcere, nella sua autobiografia, racconta appunto di essere nato, il 29 luglio 1883, in un casolare, casolare varano da costa, in una piccola attura del villaggio di Dovia, frazione del comune di Predappio, una domenica alle due del pomeriggio. Mussolini dice mi chiamo Benito in onore del rivoluzionario messicano Benito Juárez. Perciò vediamo che l'impostazione di Mussolini fu sempre della provenienza dal contadiname dell'agro padano che è di ispirazione socialista e socialista fu fino alla sua espulsione che avvenne nel momento che prese la causa interventista lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Passò dal neutralismo all'interventismo e venne espulso dal Partito Socialista. Il fascismo fu sicuramente un portato della Prima Guerra Mondiale. Senza la Grande Guerra che creò l'humus culturale favorevole alla nascita del fascismo difficilmente avremmo avuto il fascismo a meno come l'abbiamo conosciuto. Prima della Grande Guerra rigevano i grandi imperi la cartina dell'Europa era completamente diversa da quella che sarà la fine della Grande Guerra. C'erano ancora i grandi imperi dall'impero sarista russo l'impero austro-uncarico l'impero tedesco e anche l'impero ottomano che con San Giaccato di Novi Pazar arrivava fino alle porte dell'Europa fino a quella che è l'attuale Bosnia-Herzegovina. Dopo la caduta dei grandi imperi nulla fu come prima e anche le masse che e i soldati che avevano combattuto sui vari fronti della Grande Guerra una volta che ritornarono in patria videro appunto molto spesso non concesse le rivendicazioni e le promesse che erano state fatte loro nelle trincee. Quindi si crearono una sorta di sommovimenti e di complitti sia etnici fra le varie popolazioni non più sottoposte ai grandi imperi ma anche di tipo sociale all'interno dei vari stati che porteranno alla creazione di vari stati fascisti che seguiranno il filone di Benuto Mussolini quali la Ungheria ma principalmente la Polonia che addirittura avrà nel maresciallo Pilsuschi il cosiddetto Mussolini polacco anche se la formazione culturale di Pilsuschi era completamente diversa dalla formazione di Mussolini in quanto Pilsuschi era cattolico mentre Mussolini era fortemente anticlericale in virtù di quello che avevo detto prima questa fu anche una delle grandi discrepanze del fascismo che una volta al potere per compromesso con la chiesa cattolica c'è i patti lateranensi per chiudere la questione del non expedit con la chiesa del papa Achille Ratti che portò appunto il papa a chiamare Mussolini il papa Pio XI chiamò Mussolini l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare ovviamente ho citato la Polonia perché fu lo stato che sicuramente si avvicinò di più fino ad adottare nel 1935 uno stato corporativo su una organizzazione corporativa dello stato molto simile a quella italiana e a metà degli anni trenta stipulò anche un patto di non aggressione con la Germania nazista ma poi arrivarono altri fascismi come il fascismo in Spagna franchista come poi anche in Romania e successivamente con la caduta della Francia nel 1940 la Francia di Vichy che fu appunto il punto terminale della formazione di stati fascisti in Europa per il momento ci fermiamo qui e dal prossima volta entreremo nel vivo dell'analisi della dottrina politica fascista partendo dalla sua fondazione con il famoso raduno in Milano di Sansepolcro che prese appunto da quel momento nome il programma di Sansepolcro gi Freunde di Sansepolcro di Sansepolcro ? perfetto Grazie per la visione!